Ah vi racconto un aneddoto che non vi ho raccontato di stamani, lo sono scordato, una roba scandalosa, praticamente mi chiama verso le 9 un quarto il corriere, si ho lasciato a passare a consigliarti un pacchetto, così eh, faccio, io sfatto, si ok, ce la dammi 36 euro, ho detto va bene ma perché mi hanno mandato il messaggio, c'è bisogno di te da sei, aspetti non so se ce l'ho in casa, controllo, Agnese controlla, ce l'aveva per fortuna lei in contanti e mi fa ma allora ce l'hai o non ce l'hai? Stiamo controllando lui, ho 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 ho, che cazzo è ridotto, prendiamo c'ho 50 euro, eh 50 euro, cioè li vuoi pure precisi zi, eh 50 euro, ora controllo, tutto sfavato, controlla, era un PS, quindi sappiate, un PS, controlla, controlla, oh arriva, mi suona, adesso è 9 e mezzo, vado giù, gli faccio, prossima volta preparati la bustina con i soldi, lì, proprio trabocco, mi incazzo, lui a te, faccio, sì sì sì, scusa zio, ma che bustina, ma se tu mi mandassi il messaggio, magari qualche giorno prima o anche il giorno prima, me li preparerei i soldi, no? Che cazzo fa a prepararsi a bustina? Ma che bustina, ma di cosa stai parlando? Eh ma non potete aspettare i messaggi ragazzi, DHL lo fa, SDA lo fa, DHL porca puttana mi manda addirittura la mail per pagarlo nei due canali, online con Paypal, gli ho detto proprio sì, e lui eh, ah, insomma, eh, ma come insomma, è così, è così, e poi fa, comunque, allora mettici il tuo numero sul pacco, e qui il numero, eccolo qui, c'è tutti i pacchi, è su ebay il numero di telefono, tieni, eccolo qui, e se n'è andato borbottando. Eh ma scusa, che secondo me, che com'è fatto a rintracciarti se no? Eh infatti, cioè mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ma invece la ragazza che lavora con me per SDA, minchia, top, carinissima, cioè, mi chiama, messaggi, cioè, buh, vabbè la trombate, ma poi proprio l'arroganza a caso, boh, ma lo so, sì, sì, vabbè, cioè come se fosse, se fossi io intorto, cioè, la bustina, vabbè, poi davvero, cioè, uno ti chiama così all'improvviso, magari potevi non essere in casa, potevi, ah, due peletti, sì, peli di mini. Sì. 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 Sì.